Lì guardi, passarono da qua dietro dalla gronda, saltarono nella mia terrazza, che io poi ero in casa con la moglie e il cane, e scavalcarono la finestra del vicino, che non c'era nessuno, ruppero il vetro e entrarono. Si sono arrampicati su questa grondaia, hanno poi raggiunto la terrazza al secondo piano e dopo aver forzato il finestrone si sono introdotti all'interno dell'appartamento per far razzia di oro preziosi e contanti. Ladri acrobati ancora in azione ad Arezzo, ci troviamo in via Torri, alle porte del centro Aretino. Ero alle otto e mezzo circa, sette e mezzo di sera, stavo poco bene perché mi sono operato, ero in salotto con mia moglie, con il cane, e anche il cane che in genere è attento, non... fu una cosa così, ecco, dopo sentì il vicino venne e dice oddio, oddio. Sempre nella stessa zona un altro colpo è stato messo a segno lo scorso sabato, pochi minuti prima delle 18. Sono stati proprietari di casa a sentire alcuni strani rumori e a vedere la luce di una torcia nell'oscurità. A quel punto hanno gridato e i malviventi si sono dati alla fuga con un bottino, fatto anche in questo caso, di oro e preziosi. Si vive abbastanza tranquilli, però insomma un po' d'attenzione viene a metterla sempre. Quindi anche qualche controllo in più? Anche a che controllo in più farebbe male. Furti a macchia di lopardo anche in altre zone della città. Un colpo, in questo caso unicamente tentato, si è verificato in via Lazio, due invece in via Alfieri. Nelle mire dei banditi è finita anche la zona del quartiere Giotto.